Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri su ordine della direzione distrettuale antimafia di Torino. Si tratta di Giuseppe Facchinieri, di 51 anni, di Marzabotto, in provincia di Bologna, i suoi cognati Giuseppe Chemi, di 51 anni, di Casteldaiano, in provincia di Bologna, e Roberto Raffa, di 36, di Aosta, e Michele Raso, di 49 anni, di 5 fronti, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di personaggi legati all'andrangheta. Facchinieri, detto il professore, e Kelly, avrebbero contattato due imprenditori valdostani, attivi uno nel campo dell'edilizia e l'altro in quello dell'archeologia, segnalati loro da Raffa, unico valdostano dell'organizzazione che avrebbe avuto ruolo di basista. A uno dei due, quello raggiunto dalle quattro lettere di minacce, di morte, avrebbero chiesto un milione di euro. All'altro, invece, avrebbero fatto bruciare un escavatore a Quarte, in provincia di Aosta, lo scorso settembre. Sono rimasti vittime di una tentata estorsione. Uno di questi due imprenditori, il Monte Leone, aveva subito l'incendio di un escavatore in Quarte e nei giorni successivi aveva presentato la denuncia ai carabinieri. L'altro imprenditore, il Tropiano, che era già oggetto di un'attività di indagine perché aveva subito una precedente attività estortiva che aveva denunciato, non aveva in realtà offerto gli elementi che indicavano la sussistenza di un'ulteriore attività estortiva, ma questi avevano emersi nel corso dell'indagine che era nata dalla precedente denuncia. Sul fatto oggetto di questa specifica seconda estorsione, le attività investigative hanno permesso di identificare l'esistenza stessa dell'estorsione e quella degli autori del gesto criminale. Ragion per cui, quando abbiamo capito che la lettera preannunciava una scadenza temporale il 20 dicembre e che c'era il rischio di possibili conseguenze dannose per la vittima dell'estorsione, siamo intervenuti con dei provvedimenti di fermo che hanno interrotto l'iter criminale ma hanno anche impedito che i soggetti raggiunti dagli elementi di prova potessero scappare. Siamo partiti a maggio ad avere i primi sintomi di attività estorsiva nei confronti di uno degli imprenditori interessati e poi è venuto tutto quanto il resto. Come mai avevano preso di mira proprio questi due imprenditori? Un motivo molto semplice perché le loro imprese forse in questo momento stanno avendo due dei più grossi lavori in Valle d'Aosta, sono di origine calabresi ed un'impresa è specializzata nel campo di lì, c'è l'altra forse più specializzata nel recupero storico degli immobili e questa è una ditta altamente specializzata sotto questo aspetto. Non credo ci sia altro sotto se non semplicemente il fatto che avessero due grossi lavori in Valle d'Aosta. Grazie. Grazie a tutti.